Come in un duello rusticano di altri tempi, si sono affrontati in strada con lame e cocci di bottiglia. Un pregiudicato, Sabino Grossale, di 46 anni, è stato ucciso nel corso di un litigio avvenuto la scorsa notte in piazza Plebiscito, nel centro di Canosa. La violenta lite è cominciata con un diverbio che ha visto coinvolte tre persone. Sul luogo dell'aggressione nessuna traccia dei tre. I due feriti sono stati soccorsi da passanti e trasportati in ospedale. I carabinieri sono stati allertati dai sanitari. Le vittime sono state identificate in un 46enne e in un 49enne, entrambi del luogo e già noti alle forze dell'ordine. Dopo 30 minuti da ricovero, Grossale è deceduto per le gravi ferite da taglio riportate, mentre Benedetto Antonucci, sottoposto ad intervento chirurgico per una ferita d'arma da taglio all'addome, è in progno e si riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri di Barletta e Canosa, coordinati dalla Procura della Repubblica di Trani, sono riusciti in poco tempo a ricostruire la dinamica dei fatti e ad individuare le persone coinvolte. Come un presunto responsabile di entrambi i ferimenti è stato arrestato dai carabinieri il 45enne Gerardo Dagrezia, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo dovrà rispondere di omicidio e tentato omicidio. Nella casa di Dagrezia i militari hanno rinvenuto anche alcuni indumenti, ancora sporchi di sangue, da lui riposti in lavatrice. Sono in corso indagini per individuare l'arma del delitto che potrebbe essere il collo di una bottiglia o un coltello.